ciao a tutti sono michele fortunato musicista sto attualmente pubblicando musica originale e collaborando con molti artisti su band lab una piattaforma davvero davvero interessante perché questo caso perché mi piacerebbe condividere con voi la mia esperienza si parlerà di musica di trombone di come registrare come comporre un brano che sia già definito quella che ascoltate in background è la mia ultima pubblicazione in collaborazione che ringrazio perché come direttore sulla piattaforma mi ha inspirato trovate tutti i link nella descrizione del video per poter ascoltare e scaricare e magari lasciare un commento insomma iniziamo